Prima di entrare nel vivo del video della questione, volevo un attimo aprire una parentesi al volo su quello che è stato il sondaggio che ho lanciato qualche ora fa. Vi ho chiesto se pensavate che questo governo stesse per cadere oppure no. Ho lanciato lo stesso identico sondaggio su Twitter e i risultati sono stati presto a poco identici. Ha vinto di poco una delle due posizioni, le due grandi macro aree erano il sì e il no, ovviamente divise a loro volta in due declinazioni, la prima un po' più dura e l'altra invece più moderata. Quindi sì sta per cadere, sì sta per cadere ma durerà fino al 2020, no non sta per cadere ma vacilla paurosamente oppure no non cade e anzi si rafforzerà. E' stato un sondaggio molto ma molto equilibrato e alla fine ha vinto di poco la posizione di chi pensa che questo governo finirà per non cadere e anzi per rinforzarsi. Al di là di come voi la pensiate sull'esecutivo giallo-verde è incredibile come a distanza di più di un anno dalla nascita di questo governo le visioni sul suo operato siano tutt'altro che univoche. C'è chi pensa che questo sia un governo che tutto sommato per quanto sgangherato, per quanto pieno di contraddizioni sia il meglio che possa partorire in questo momento l'Italia. C'è chi pensa che invece questo governo debba finire perché ha al suo interno troppe contraddizioni, troppe forze che si scontrano su temi importanti come l'Europa, l'immigrazione, l'economia eccetera. C'è chi invece pensa che questo governo sia propedeutico e stia preparando l'arrivo invece di un governo tecnico sullo stile di Monti, questa volta dovrebbe arrivare Draghi. C'è chi pensa che questo governo finirà per dar vita ad un esecutivo PD Movimento 5 Stelle, benedetto da Mattarella. Insomma le posizioni sono veramente tante, diverse tra di loro, spesso inconciliabili. Quindi sinceramente questa è la mia posizione e chiudo l'argomento, io credo che questo governo abbia al suo interno delle persone valide, abbia al suo interno anche delle idee valide. È comunque una cozzaia, è un baraccone che sta in piedi veramente con lo sputo, con lo scotch, però è importante che porti a casa dei risultati prima di sfasciarsi e andare dove deve andare. E il primo fra tutti sono in assoluto i minibot. Una volta fatti i minibot per quanto mi riguarda questo governo può tranquillamente sparire perché veramente ci sono al suo interno dei contrasti a volte veramente eccessivi. Però è importante che questo esecutivo riesca a portare a casa dei risultati, degli obiettivi che sono a mio avviso propedeutici all'uscita dell'Italia da questo incubo. Poi ovviamente questa è la mia opinione, c'è chi dirà no ma non ti rendi conto che questo governo invece ci sta portando agli Stati Uniti d'Europa oppure non ti rendi conto che questo governo non ha futuro. Ripeto, le opinioni a riguardo sono le più disparate, alcune sono anche rispettabili perché si basano comunque su dati fatti ma altre ancora mettono sul campo altri dati e altri fatti e vanno ugualmente prese in considerazione. Quello che mi sento di dire è di ragionare sul momento perché tante sono le variabili in campo che fare una previsione da qui anche solo a un mese è impossibile. Quindi io come dire metto sul piatto, sul tavolo della questione la sfida dei minibot che sono veramente ma veramente vitali e speriamo che questo governo abbia intenzione di portarle avanti perché se veramente poi si andrà ad incastrare su questo allora possono andare tranquillamente a quel paese tutti quanti. Chiusa la parentesi, di cosa voglio parlare in questo video? Voglio parlare di una di quelle critiche che vengono poste e mosse nei confronti di chi come me e tante altre persone si batte contro l'Unione Europea. È critico verso l'Unione Europea anche in maniera totale perché io sono a favore di una italexita il più presto possibile. Ma una delle critiche che viene mossa ed è quella a mio avviso una delle più sciocche ma vedo che si ripete spesso è quella di addossare all'Europa tutte le colpe e come dire assolvere l'Italia e gli italiani dalle loro, dalle proprie colpe. Questo è falso, ma non solo falso, è totalmente senza senso. La critica all'Unione Europea porta automaticamente a mettere la luce, proprio a porre il faro di luce sui problemi interni all'Italia e sulle colpe enormi degli italiani stessi o meglio di alcuni italiani. Criticare e condannare i mandanti non significa assolvere gli esecutori e gli esecutori sono nella stragrande maggioranza dei casi italiani. Questo è importantissimo da tenere in considerazione perché se no passa l'idea che combattere contro l'Unione Europea significa immaginare il proprio paese come una sorta di Bengodi che viene attaccato dall'esterno e quindi siamo tutti delle vittime. Magari fosse così, perché se fosse così la questione sarebbe di gran lunga più semplice anche da analizzare. Saremmo noi, noi italiani, contro il resto del mondo. Non è così. Magari fosse così. Ripeto, tutto quello che è successo negli ultimi decenni che ha portato a questo sfacelo non sarebbe mai potuto accadere se chi ci ha attaccato non avesse avuto dalla sua parte una porzione considerevole della classe politica italiana, della classe giornalistica italiana, di quella intellettuale e ovviamente di quella parte di opinione pubblica che gli va dietro. Non sarebbe mai potuto accadere tutto quello che è accaduto se non avessero avuto i nostri nemici dalla loro parte una quantità incredibile e veramente industriale di collaborazionisti. E questo è un problema italiano. Cioè se noi non siamo in grado, non siamo stati in grado di esprimere una classe politica che ci difendesse, che fosse animata da uno spirito patriottico di amore verso la propria terra e il proprio popolo è un nostro problema ed è un problema, prima ancora che politico, è un problema culturale. Cioè noi ci dobbiamo liberare di quella sudditanza psicologica che poi porta ad aiutare chi dall'esterno ci vuole fregare, chi dall'esterno ci vuole depredare. Ma questo, e l'ho già detto altre volte, è un problema che ci portiamo avanti da secoli. Cioè non è un problema della prima repubblica o della seconda repubblica, è un problema della penisola italiana da secoli e secoli. Cioè chi ci invadeva sapeva che avrebbe trovato lungo la sua strada dei principi, dei marchesi che erano pronti ad aprire le porte della loro città purché l'esercito invasore, l'esercito invasore straniero, gli garantisse il mantenimento del loro piccolo potere locale. Capite quindi che è un problema di lunga data e se questo non lo risolviamo possiamo fare tutte le battaglie del mondo contro Bruxelles, Washington, Parigi, ma la cosa non si risolverà mai del tutto. E quindi quando parliamo del divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, chi l'ha fatto? Ciampi e Andreatta, che sono due fratelli polacchi? No, sono italiani. Romano Prodi, cos'è? Un tedesco? Gli piacerebbe, ma non è così, è italiano. Mario Monti, cos'è? È nato a Parigi? No, è italiano. I trattati di Lisbona e di Maastricht, chi li hanno firmati? Li hanno firmati degli italiani, ovviamente imbeccati dall'esterno e eseguendo ordini dall'esterno, ma sono stati italiani a fare tutto questo. La svendita dei nostri gioielli e le privatizzazioni selvagge, chi li ha portati avanti? Governi di italiani. Non sono arrivati i carroarmati dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti a dire fate questo o spariamo. Magari fosse successo tutto questo. Non è successo questo. È successo che la nostra classe politica ci ha tradito. E se noi come Italia, come sistema Italia, non riusciamo ad esprimere una classe politica sinceramente legata agli interessi nazionali, è un nostro problema. È un problema, ripeto, politico e culturale, mentale, da risolvere, perché altrimenti siamo destinati ad essere sempre succubi. E questo lo dico non solo agli europeisti che tendono ad innamorarsi di questa narrazione esterofila autorazzista, ma lo dico anche a coloro che si dichiarano patrioti, ma poi finiscono sempre per cadere in quei ragionamenti. Eh, ma l'Italia è un paese di merda, non cambia mai, gli italiani. È una mentalità che ci condanna, ce ne dobbiamo liberare. È tutt'altra cosa essere critici anche in maniera dura, spietata nei confronti del proprio paese. Quella è una cosa positiva, se porta a una costruzione. Se invece, come dire, è semplicemente lanciarsi fango addosso, quasi per, a sua volta, come dire, discolparsi, dire, vabbè, gli italiani sono così, io non sono così, ma gli altri sì, ripeto, finisce per non cambiare le cose, anzi per peggiorarle. Ed è questa stata la base culturale, ancora prima che politica, su cui sono passati trionfalmente i nemici dell'Italia stessa. Ok? L'incubo in cui ci hanno ficcato, questo incubo chiamato Euro, non sarebbe mai potuto accadere, non avrebbe mai potuto prendere vita se non avessero trovato i vari commissari europei, i vari speculatori finanziari, i vari veramente mostri che azzanano alla gola interi paesi, se non avessero trovato sulla loro strada degli zerbini. E non solo dal punto di vista politico, anche da quello mediatico, ad esempio, ancora oggi la maggioranza dei giornalisti italiani sono una massa di vermi striscianti che ripeta gli italiani 24 ore su 24, che senza l'Europa noi non andremo da nessuna parte. Ok? Ma ripeto, è un problema italiano. Quindi combattere e criticare l'Unione Europea significa innanzitutto porre l'attenzione su un nostro problema politico e culturale che dobbiamo risolvere, perché altrimenti si finisce per credere alle varie storielle per cui l'Italia è in questa situazione perché siamo lavativi, perché siamo incapaci. Queste sono le cazzate autorazziste che piacciono tanto ai tifosi di Bruxelles. La verità è che siamo un popolo di grandi lavoratori, un popolo che può fare grandissime cose, lo ha dimostrato, ma è condannato da una classe politica che purtroppo è espressione di sé, della parte peggiore di sé, che non è quella dei ladri, altra favoletta, perché i ladri stanno ovunque. La parte peggiore di noi è quella che tende all'autodenigrazione, al sentirsi sempre inferiore agli altri. Questa è la parte peggiore di noi, questa è la parte che dobbiamo sopprimere e cambiare e dobbiamo invece dare vita a una nuova classe politica, di gente che veramente crede nel paese e allora lì sì che si vedrà un cambiamento incredibile e questo paese potrà finalmente continuare e ritornare a volare. Prima di allora le cose non possono cambiare. Quindi questo video è dedicato a tutti coloro che mi vengono a scrivere sotto Ah ma tu stai scaricando le colpe sull'Europa! No, io sto dicendo che ci sono dei mandanti dall'esterno di cui abbiamo nome e cognome, ma gli esecutori ce li abbiamo qui in Italia ed è un nostro problema da risolvere. Finisco leggendovi questo scritto che parla della questione che ho appena affrontato, vi invito ad ascoltarlo per bene. Una nazione può sopravvivere ai suoi imbecilli e anche ai suoi ambiziosi, ma non può sopravvivere al tradimento dall'interno. Un nemico alle porte è meno temibile perché mostra i suoi stendarti apertamente contro la città, ma per il traditore che si muove tra quelle la porta è aperta, il suo mormorio si sposta dalle strade alle sale del governo stesso, perché il traditore non sembra un traditore, parla una lingua che è familiare alle sue vittime ed usa il loro volto, le loro vesti appellando alle profondità del cuore umano, marcisce il cuore di una nazione, lavora in segreto come un estraneo nella notte per abbattere i pilastri della nazione, infetta il corpo politico in modo inesorabile. Questo era Marco Tullio Cicerone più di duemila anni fa.